bentornato guter bentornata andiamo avanti nella descrizione del pannello impostazioni di windows 10 è ora il momento della sezione data ora e lingua in questa sezione tu potrai impostare e gestire le impostazioni dell'area geografica la tipologia della data dell'ora e sintesi e riconoscimento vocale per un'interazione audio con il pc come percorso iniziale puoi visionare l'equivalente lezione 108 e video annesso per windows 7 oppure la lezione 151 e video tutorial per windows 8.1 update come puoi accedere naturalmente dal pulsante start individua l'icona ingranaggio e nella finestra trova il pulsante data ora e lingua e cliccaci sopra più o meno in questa zona noterai una lista minimale di alcune sezioni come data e ora appunto area geografica e lingua riconoscimento vocale la prima è specificamente correlata alle impostazioni di data ed ora hai una visione delle impostazioni attuali ed un paio di cursori che ti permetteranno di impostare la data o l'orario in misura automatica prelevandolo dalla rete ed il passaggio e rientro dal fuso orario alternativamente a questi cursori potrai modificare manualmente questi parametri anche con la scelta del fuso orario in cui ti trovi subito sotto trovi la parte dedicata al formato delle impostazioni di data ed ora la visione ti indica quello che ha impostato in quel momento e che potrai cambiare con il pulsante cambia formati di data e ora la nuova finestra presenta una serie di menu a tendina con cui potrai divertirti nella scelta a te più consona altri due pulsanti delle voci correlate ti daranno l'opportunità di impostazioni aggiuntive dei parametri di cui sopra di tipologie di orologi selezione lingua ed area geografica con la seconda sezione area geografica lingua puoi scegliere il paese in cui ti trovi e le impostazioni delle lingue per la visualizzazione dei siti o la digitazione tramite tastiera in pratica sceglierai il metodo con cui dialogherai con il sistema operativo l'ultima sezione è dedicata alle chiacchiere per così dire sceglierai la lingua con cui potrai parlare al sistema operativo e come esso dialogherà con te hai due possibili voci da selezionare una maschile ed una femminile e potrai anche impostare la velocità del dialogo non è molto umana ma comunque si comprende benissimo prova anche il pulsante anteprima voce per rendertene un pochino conto un pulsante dedicato al microfono invece ti consentirà di configurarlo al meglio per il conoscimento vocale tramite una procedura guidata e molto semplice in basso trovi una sezione dedicata alla privacy puoi scegliere cosa la microsoft immagazzinerà sulle tue interazioni con il sistema operativo tramite la digitazione oppure tramite l'assistente vocale cortana questo per migliorare naturalmente la tua esperienza d'uso del pc rendendolo quanto più vicino al tuo stile eccoci guter pulsante start icona ingranaggio delle impostazioni clicca sul pulsante data ora e lingua in questa sezione puoi trovare dei cursori il primo è nel mio caso già attivato per impostare automaticamente alla data allora qualora tu voglia impostarlo manualmente puoi deselezionare questo cursore e modificare i parametri in maniera manuale ma io lascerei attiva questa funzione in maniera automatica stesso discorso tramite questo cursore puoi impostare automaticamente o manualmente il fuso orario in questo caso il cursore è attivato e passerà in maniera automatica al fuso orario qualora tu voglia impostarla manualmente sarà sufficiente selezionare il tuo fuso orario dal menu a tendina e sarà selezionato automaticamente anche questo cursore ti permette di attivare o disattivare il passaggio all'ora legale lasciamolo attivato in maniera automatica qui hai una rappresentazione dei formati attualmente in uso di data ed ora qualora tu voglia cambiarli sarà sufficiente cliccare su questo pulsante e dai vari menu a tendina potrai impostare come meglio credi le impostazioni per questa sezione di data e ora hai anche altre sezioni come impostazioni aggiuntive di data ora e qui poi di nuovo impostare i parametri relativi all'ora alla data e al fuso orario questa vista la versatilità del sistema operativo puoi anche cambiare da questo pulsante il fuso orario come vedi vai sempre a introdurre azioni nella stessa sezione oppure puoi anche aggiungere nella zona della sistrei altri orologi di fuso orari che tu puoi aver piacere di visionare selezionandone fino a due potrai selezionare valori relativi alle zone di tuo interesse prendiamone qualcuna a caso dopo l'applicazione potrai visionare in questa sezione gli equivalenti dei due orologi che hai impostato da questa schermata disattiviamoli e andiamo avanti qui puoi decidere se far impostare in maniera automatica il sistema l'ora tramite internet passiamo oltre qui puoi selezionare invece una lingua aggiuntiva qualora ne volessi più di una tra quelle disponibili da questa sezione sa te decidere se volessi inserire altre lingue compreso il metodo di digitazione quindi della tastiera la sezione area geografica ti permette di cambiare il paese in cui ti trovi se non fosse quello già disponibile qui un'altra sezione che ti permette di impostare i parametri dei formati di data ed ora tramite questa scheda entri nella sezione delle impostazioni per poter condividere queste informazioni di parametri che hai impostato nelle varie schermate e nei vari account che di volta in volta selezionerai qui hai una rappresentazione e potrai copiare queste informazioni per tutti i nuovi utenti in modo da replicare senza andare ad impostare nuovamente questi parametri che già avrai impostato anche questa sezione è relativa a delle impostazioni della lingua corrente per tutti gli account che man mano creerai altro pulsante che riporta sempre alla stessa sezione torniamo alla sezione precedente altro pulsante che hai già visto in pratica è quello che ti permette di impostare uno o due ulteriori orologi la sezione area geografica e lingua ti porta alla selezione della zona di competenza dove ti trovi e questo pulsante ti permette di aggiungere lingue qualora ne avessi bisogno cosa che abbiamo già visto nella sezione precedente qui di nuovo il pulsante che ti permette di replicare le impostazioni che già abbiamo visto nella sezione dedicata la sezione riconoscimento vocale ti permette di selezionare la lingua di interazione con il sistema operativo tramite questo segno di spunta potrai anche far riconoscere gli accenti che non sono nativi della lingua che in questo caso è preimpostata in italiano mentre tramite la sezione centrale puoi scegliere i nomi e quindi le voci che verranno sintetizzate dal computer in questo caso tramite il pulsante anteprima voce puoi ascoltare la voce di cosimo mobile è stata selezionata la voce predefinita microsoft cosimo mobile tramite questo cursore puoi selezionare la velocità con cui in questo caso cosimo andrà a parlare e come puoi vedere in talunni casi è molto difficile riconoscerla è stata selezionata la voce predefinita microsoft cosimo mobile altra possibilità una voce femminile Elsa mobile è stata selezionata la voce predefinita microsoft la sezione inferiore microfono ti permette di configurare il microfono che utilizzerai per dialogare con il sistema operativo e quindi potrai andare a configurare qualora tu voglia il microfono se già non è precedentemente configurato chiudiamo questa finestra il pulsante relativa alla privacy ti permette di gestire le informazioni che il sistema operativo la microsoft nel dettaglio avranno su di te tramite i tuoi metodi di input che possono essere la testiera oppure l'assistente vocale cortana quindi se tu volessi interrompere l'acquisizione delle informazioni potrai cliccare su questo pulsante inibendo però in questo modo alcune impostazioni del sistema operativo bene nella prossima lezione ancora informazioni di windows 10 per questa sezione impostazioni ora come sempre un forte saluto ciao a presto da carlo e dalla prossima grazie a tutti